buongiorno ragazze oggi vi parlo di bicarbonato tutti usi di bicarbonato almeno alcuni ecco perché c'è c'è un mondo intero dietro bicarbonato allora intanto laviamo la frutta la verdura con bicarbonato poi possiamo usare anche come lievito basta aggiungere un po di bicarbonato con aceto usate come come lievito ecco poi un'altra cosa adesso sto facendo ragù per fare andare il l'acido di pomodoro aggiungete un pochettino di bicarbonato non avete paura se diventa subito bianco dopo va qui No, no, no. Stavano mettendo via il pane del masto. Poi lo usiamo anche in lavatrice. Io quando lavo lenzuola, non so, anche asciugamani, abilamento sportivo, le scarpe, fa andarvi anche l'odore del bicarbonato. Tante volte io ho bicarbonato o aggiungo direttamente dentro. E poi giustamente aggiungo anche acido citrico. Ed ecco perché uso sempre acido citrico così. Se qualcuno si è perso come si usa acido citrico, ho fatto un altro video qui sotto. Ragazzi, prima che mi dimentico, anche contro le macchie del sudore. Sapete che ci sono alcune macchie del sudore, tipo non so, dietro la malietta così. Ora cosa facciamo? Lo bagniamo un po' con acqua. E' un po' con acqua. Dopo semplicemente lasciamo un po' così, quando fate la lavatrice lo mettete dentro. tutto lì. Poi lo usiamo anche per i tappeti, moquette, per il nostro matrasso. Cioè va bene il bicarbonato anche contro acari, fa dar via anche l'umidità del vostro matrasso. Non ci vuole tanto, vi faccio vedere come si fa. basta cospargere il bicarbonato sopra il vostro matrasso. dopo fate reagire per 15 minuti. dopo semplicemente lo esprimiamo. assorbe anche l'odore del frigo. aggiungiamo qualche cucchino di bicarbonato e poi lo mettiamo dentro il frigo. semmai lo mettiamo dietro un angolino che non si vede. la stessa cosa possiamo mettere anche un po' di bicarbonato dentro, non so, una vaschetta. io ho questi qua, uso queste. possiamo mettere anche dentro il vostro armadio. anche qui assorbe gli odori e fa andare via l'umidità. ma più che altro facciamo così in inverno, non d'estate. già basta aggiungere un pochettino. mettiamo dietro, dietro che non si vede. ecco, lo usiamo anche per le pulizie. se per la ceramica, che per i nostri sanitari, ecco, aggiungiamo un po' una spugnetta. metto anche i guanti perché brucia un pochettino. da una nuova per i nostri salutatori, ecco. bella un po' un po' un po' un po'. Grazie a tutti. 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 Poi dentro l'altro bicchierino aggiungiamo acido citrico. Acido citrico. Mettiamo un po' di acqua. Ecco, ecco, ecco l'unica volta che vi concedo mescolare acido citrico con bicarbonato e questa volta qua. iscrivite al canale e iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima volta. Ciao, ciao a tutti.